La risposta fascista e fatti accaduti in un venerdì di paura a Napoli arriva in tardanotte. È il prologo di quella che sarà una nuova giornata tesa, che riprende in mattinata con l'esplosione di una bomba carta a pochi metri dal comitato elettorale di Gianni Lettieri in piazza Bovio. Venerdì notte, piazza San Giovanni Pignatelli affollata. È da poco passata l'una, quando davanti all'università orientale, gli estremisti di destra armati di coltello e bottiglie scatenano il panico sotto gli occhi di decine e decine di studenti terrorizzati. Una spirale di violenza che parte direttamente dalla facoltà di lettere a seguito dell'accoltellamento di tre giovani appartenenti ai collettivi di sinistra e al pestaggio di un militante 25 anni di Casa Pound, candidato alla Municipalità Stella San Carlo, nella lista di centrodestra Libera Collettieri, che su social network Facebook si è dichiarato un simpatizzante di Hitler. Il giovane neofascista Enrico Tarantino è stato colpito più volte alla testa con un bastone, mentre gli studenti vicini all'area di sinistra sono stati colpiti con alcuni fendenti alla gamba e alla mano. Pestaggi, aggressioni e la contestazione a candidato a sindaco del PDL Gianni Lettieri da parte degli studenti di sinistra avvelenano lo scontro politico a meno di un mese dalle elezioni per Palazzo San Giacomo. 15 studenti, ritenuti aggressori di Lettieri, sono stati fermati dalla polizia. La DIGOS indaga in queste ore per intracciare gli artefici delle scorribande avvenute nelle ultime 24 ore in città, che fanno piombare Napoli in un clima da anni 70. L'ultima aggressione in ordine di tempo avviene in una piazza gremita. La squadra fascista, composta da almeno 7 persone, alcune delle quali col volto travisato, organizza un vero e proprio ride e punta dritto verso l'entrata di Palazzo Giusso, all'interno del quale c'è una festa organizzata dai collettivi studenteschi. Gli alterchi tra Casa Pound e collettivi studenteschi proseguono poi sul web, attraverso comunicati e scambi di accuse su pestaggi e le aggressioni delle scorse ore. Ore infiammate, tensione alle stelle. In una Napoli dove la tornata elettorale viene macchiata da pestaggi e rappresaglie.